In studio sono contenta di salutare il leader della Lega Matteo Salvini, bentrovato Salvini, come sta? Grazie, sono nelle campagne marchigiane in provincia di Materata. Bene, ho appena parlato, peraltro vi sentivo che parlavate di scuola con un'insegnante precaria di sostegno che era oggi a scuola a Montelupone a proposito di vita vera ed è impazzita perché lei doveva seguire una ragazzina disabile e non è riuscita a seguirla perché ha dovuto coprire cinque posti di altri cinque insegnanti che mancavano. E questa è vita vera della scuola di Montelupone. No, no, ma noi tra l'altro lo abbiamo raccontato anche stamattina ed è un tema che peraltro affrontiamo spesso perché io credo Salvini, poi veniamo alle difficoltà che si sono aggiunte col Covid, però io credo che la scuola in questo paese sia un tema da un po' di tempo, quello degli insegnanti e degli insegnanti di sostegno anche è un tema da un po' di tempo e forse è molto difficile affrontarlo perché non lo so, anche con il suo governo qualcosa non ha funzionato se stiamo parlando ancora delle stesse cose, che dice? Guardi, dopo il Covid è cambiato tutto perché quando a marzo chiudi le scuole non è mai successo nella storia della scuola italiana. Noi da marzo diciamo al Ministro Azzolini e al Presidente Conte attenzione, stabilizziamo decine di migliaia di precari perché altrimenti a settembre sarà un problema. Mancano le aule nelle scuole pubbliche perché ci sono meno bambini per classe. Coinvolgiamo le scuole paritarie che hanno migliaia di aule vuote e così lavoriamo bene, pubblico e privato, nell'interesse dei bambini. Compriamo i termoscanner per misurare la febbre a scuola. Cioè lei dice che c'era il tempo e c'era la possibilità per intervenire anche su problemi diciamo non solo legati al Covid ma anche su problemi antichi. Non è un anno come tutti gli altri questo, è un anno particolare. I bimbi disabili, ce ne sono più di 250 mila che sono rimasti a casa da marzo, hanno sofferto due volte. Perché un bimbo autistico che perde la quotidianità, perde il contatto umano, non ha la didattica a distanza. Quindi abbiamo detto quest'anno più che mai in passato stabilizziamo gli insegnanti di sostegno. Così non è andata oggettivamente, problemi ce ne sono. Alessio? Arrivano altri dati, questa è l'Associazione Nazionale Presidi, parla il Presidente Antonello Giannelli. Una delle maggiori criticità di quest'inizio dell'anno è il fatto che mancano diverse decine di migliaia di insegnanti. In diversi istituti in cui ci sono cattedre vuote, come il caso limite di un istituto comprensivo del Prenestino, siamo a Roma, pare manca il 50% dei professori ed è chiaro che l'unica soluzione è quella dell'orario ridotto. Il fenomeno, precisa l'Associazione Nazionale Presidi, riguarda molti istituti. Va bene, mi pare che la situazione sia quella che andiamo raccontando. Io in verità, Salvini, lo dico per onestà intellettuale, penso che lo scontro con la scuola sia durissimo. Cioè tornare alla normalità a scuola sia una cosa assai complicata. Alcune cose però sono d'accordo con lei, bisognava pensarci per tempo. Stabilizzare gli insegnanti precari, stabilizzare gli insegnanti precari, non ha bisogno di legge, non ha bisogno di fondi. Ci sono degli insegnanti che insegnano già da 10 anni, stabilizza loro, invece di cambiare le gradatorie, di spostare uno che è a Trieste e lo mandi a Cagliari. Stabilizza in quella classe, in quella scuola, l'insegnante che è lì da 5 anni. Non ti costa nulla. Hai le aule che ti mancano, usa le scuole paritarie che ti mettono a disposizione delle aule. Ma mancano perfino i banchi. Il ministro Azzolina ci ha parlato per tre mesi, e parlo da papà, dei banchi con le rotelle. E adesso scopriamo che la metà dei banchi arriverà a novembre. Mi sono chiare tutte le osservazioni, Salvini, rispetto alla stabilizzazione degli insegnanti. Mi viene da dire uno che aspetta di essere stabilizzato da dieci anni, poteva essere stabilizzato anche un anno e mezzo fa. Però capisco il ragionamento che lei fa e le altre questioni che sono tutte aperte. Mi sposto su, diciamo, dalla scuola al referendum. Facciamo questo viaggio, Salvini. Le voglio far affrontare mille argomenti, una volta che ce l'ho lei capisce. Fatemi sentire la Raggi. Varie forze politiche in diverse legislature hanno provato a portare avanti, il che dimostra che in realtà è una riforma voluta e desiderata. Questo era uno dei punti del programma del Movimento 5 Stelle e sono convinta che sia giusto, ripeto, portarlo a termine. Allora, mi faccio vedere tutta la sua gioia, il suo piacere, diciamo, nell'essere sulla stessa posizione della Raggi e diversamente, diciamo, convinto sul referendum rispetto a Giorgetti che, ricordo, è il numero due della Lega. Ma io, a differenza di altri, non ho un pregiudizio. Perché c'è qualcuno a sinistra che dice se Salvini dice bianco e allora io devo dire nero. Se la Raggi vota sì al taglio dei parlamentari, anch'io voto sì al taglio dei parlamentari. Era nei nostri impegni con gli italiani. L'abbiamo votato per quattro volte in Parlamento. Io non faccio come Renzi che vota no in Parlamento e poi vota sì al referendum per salvare la poltrona con i 5 Stelle. Ho votato sì e continuo a votare sì. Se poi lei mi dice che questo taglio dei parlamentari risolve i problemi dell'Italia, evidentemente no. Però noi non siamo una caserma come Lega. Il referendum è il trionfo della democrazia e della libera scelta dei cittadini. La posizione mia è chiara per il sì. Della Lega è chiara per il sì. Se poi qualcuno dice che il solo taglio dei parlamentari non serve a un accidente e quindi vuole votare in maniera diversa, per carità di Dio, io non imbavaggio nessuno. No, no, lei però capisce Salvini che Giorgetti non è qualcuno, no? Giorgetti non è un passante, ovviamente lei lo sa meglio di me. Detto questo, però io le chiedo, siccome ho sentito anche la Meloni che ha ribadito che lei è per il sì al taglio dei parlamentari, ma ha anche detto sento un'aria perché magari potrebbe passare lì, l'idea di dare con questo un bel sommovimento per il governo. E allora le chiedo, la sua sensazione qual è? Che alla fine improvvisamente ci sia un'intenzione diversa? No, guardi, io sto girando ieri in Puglia, stamattina in Abruzzo, adesso nelle Marche, poi sarò in Toscana. La gente non mi chiede della legge elettorale o del referendum, molto onestamente. La priorità per gli italiani è il lavoro. Il lavoro, la salute e la scuola. E quindi noi ci stiamo impegnando per dare risposte sul tema del lavoro, della salute e della riapertura delle scuole. Se un signore di 75 anni al Mugello, in Toscana, mi ha portato la sua impegnativa per il campo visivo e gliel'hanno data a giugno 2021, per me, prima del referendum o della riforma elettorale, viene dare una sanità migliore a quel signore che mi dice io magari a giugno 2021, col mio occhio, non ci arrivo. In Toscana non puoi dire... Però diciamo, per fortuna, arrivano un sacco di soldi dall'Europa, un'occasione, un'occasione ghiottissima, c'è riuscito Conte, 209 miliardi e vive viva, no? Sì, sono soldi dati in prestito e vediamo se arrivano di usarli bene, non per i monopattini elettrici. Sì, quello ce l'auguriamo. Sento, Salvini, siccome lei ha detto sto in giro per l'Italia, lei sta in giro per l'Italia, ci sono le regionali. Dunque, ricapitoliamo insieme. Liguria, Toscana, Marche, Veneto, Campania, Puglia. le chiedo una previsione realistica. Cioè, lei... Quetta, Tiziana, c'è anche la Valle d'Aosta. Va bene che è piccolina. Sì, sì, quel pesettino l'anno è la roscata. Ha ragione, ha ragione. Lei stappa lo Champagne a sé. Io mercoledì sera sarò nella splendida Valle d'Aosta. Tappa lo Champagne a Salvini, se... No, a parte il fatto che preferisco il Prosecco italiano, lo Champagne francese. Però non è un voto ideologico, non è un voto politico, non è una scelta fra destra e sinistra. Le regionali sono un voto molto locale. Cioè, nelle Marche voteranno... Per 50 anni hanno votato a sinistra. Se l'aria dice che vince il centrodestra e vince la Lega, non è perché i marchigiani sono impazziti, ma perché, ad esempio, qua, la Regione è l'ultima in Italia per i soldi dati agli agricoltori e alle aziende agricole. Piuttosto che in Toscana, aspettano l'aeroporto di Firenze... Eh, ma la Toscana, per esempio, è davvero contendibile, Salvini. ...lo cambiano sui fatti concreti. Io penso di sì. Perché in Toscana già hanno eletto sindaci della Lega, del centrodestra, in questi anni, a Siena, a Pisa, ad Arezzo... E se vincete in Toscana, chiedete le dimissioni del governo, chiedete qualcosa? Io non sento. No, dicevo, se vincete in Toscana, questo significa e deve significare qualcosa per il governo? Aiuto, ripristinatemi. No, 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 è un voto dei Toscani per i Toscani. No, le voglio chiedere una cosa, Salvini, ma... Per i Veneti e i Pugliesi per i Pugliesi. Lei è Matteo Salvini, giusto? No, non userò il voto... Io sono Matteo Salvini, nato a Milano il 9 marzo 1973, segno dei pesci... No, perché mi verrebbe da dire che il fratello buono, io me la ricordo per tutte le elezioni regionali quando si votava per l'Emilia-Romagna, e non era così. Forse hai imparato qualcosa da lì. Il virus impone in questo momento serietà, concretezza, non fare promesse mirabolanti, ma dare impegni concreti. Vengo dalla Puglia, l'acquedotto pugliese perde la metà dell'acqua prima che l'acqua esca dai rubinetti. Quindi io mi propongo di governare la Puglia non per mandare a casa Conte o Lazzolina, ma per permettere a tutti i pugliesi di aprire il rubinetto di avere una visita medica per gli occhi prima di un anno di attesa. Poi, se lei mi chiede, si augura che il governo vada a casa il prima possibile? Sì, ma a prescindere dal referendum e dalle regionali. E dal risultato delle regionali. Lazzolina per la scuola, la Morgese per gli sbarchi o la Bellanova per l'agricoltura non stanno dando agli italiani le risposte che si aspettano. Salvini, le devo fare una domanda sulle inchieste. Non so, davanti a me un po' di giornali di questa mattina. I soldi della Lega sparivano grazie ai contabili. Soldi girati anche a Centemero. Ricordiamo che Centemero è il tesoriere della Lega e questa sarebbe la testimonianza di Ghilardi, il bancario cacciato per i conti della Lega. Quella cena con Salvini per i PM coinvolge i piani alti della politica. Cosa sta succedendo e quanto la preoccupa questa inchiesta? Ricordiamo che ci sono diverse persone. Scusatemi, io perdo la metà di quello che state dicendo. Il tema è l'indagine che coinvolge in qualche modo la Lega secondo il lavoro che stanno facendo i pubblici ministeri. Parliamo dell'arresto degli ormai famosi tre commercialisti. Poi a questo punto gli indagati sono nove. Stiamo vedendo un po' di titoli, li citavo, ma lei li conoscerà meglio di me. Di che stiamo parlando, Salvini? Non so, chiedetelo ai giudici di cui ho la massima fiducia. So che da anni ci sono procure e giornalisti che cercano soldi della Lega in Russia, in Svizzera, in Lussemburgo, in Liechtenstein, a San Marino. Oggi leggevo anche a Panama. Abbiamo sparso soldi in giro per il mondo. Secondo me possono cercare per vent'anni perché non c'è una lira. Lei si fida di questi commercialisti, di queste persone che poi al momento sono solo indagate? Lo ricordo perché io sono convinta che uno quando è indagato è indagato, poi si è condannato. Delle due persone che conosco mi fido e le conosco come persone corrette. La Lega non ha mai chiesto niente, non ha mai preso niente. Quindi fino a provocare mi fido di persone che conosco da tempo e che reputo persone corrette. Non parlo di complotti della magistratura. Ognuno fa il suo lavoro. Il processo su cui mi sto documentando è quello che riguarda me. Visto che io il 3 ottobre sarò in tribunale a Catania per rispondere di sequestro di persone e rischio 15 anni di carcere. Se becco il Palamara di turno, insomma, c'è di che preoccuparsi. In che senso c'è di che preoccuparsi? Di quel processo rispondo io. E beh, insomma, vi ricordate, chi è davanti al televisore si ricorderà le intercettazioni di Palamara che non era un passante, era il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati. Quindi lei dice se non trova un magistrato corretto? Per rappresentarli che aveva detto, no ma Palamara aveva detto, per iscritto, Salvini ha ragione. Salvini rispetta la legge, però bisogna fermarlo, però bisogna indagarlo, però bisogna processarlo. Eh, la qualcosa non è proprio... Però Palamara non era chiamato ad esprimersi su di lei. Io non penso di essere un sequestratore. Eh, ho capito. Però io ripeto, confido nella stragrande maggioranza dei giudici per bene, quindi è giusto che indaghino. Io sarò in tribunale a Catania quel sabato 3 ottobre, mi dichiarerò assolutamente consapevole e orgoglioso di quello che ho fatto. Ho limitato gli sbarchi, ho contrastato gli scafisti, i trafficanti di esseri umani, ho ridotto il numero dei morti. Quando è la data? Il 3 ottobre. Mi torna a trovare prima del 3 ottobre, così ne riparliamo di questo.